we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio velocissimo video io sono xyuderone e ragazzi ultima sfida importante di questa settimana numero 10 ci chiede di a una bella cera stasera c'è intanto qualcuno che sia abbonato gg ci chiede di passare in mezzo ai cerchi di fuoco con i cannoni ragazzi basta semplicemente andare nella prima posizione ve le faccio vedere tutte e tre siamo vicino a parco pacifico nell'accampamento prendere il cannone e con una piattaforma spararsi proprio in mezzo in modo da poter passare appunto il primo cerchio di fuoco il secondo cerchio di fuoco non è molto lontano per questo vi consiglio ragazzi di avere sempre a portata di mano una bella girosfera in modo da potervi muovere in maniera davvero veloce e rapida dovete semplicemente raggiungere l'altro accampamento quello che è presente proprio dopo il campo da calcio a 5 e vicino al lago ghiacciato avete benissimo capito qual è ve lo faccio vedere molto velocemente ci vogliono davvero pochi secondi per raggiungerlo con la girosfera e quindi prendere un cannone per spararsi in mezzo al cerchio di fuoco che ancora non si vede ma lo vedrete tra pochi secondi eccolo lì davanti a noi ragazzi proprio in mezzo al lago ghiacciato non so se lo avete visto eccolo proprio qua davanti il terzo ragazzi invece è leggermente più lontano ma cerchiamo sempre molto rapidamente di raggiungerlo in modo da darvi proprio subito in un colpo solo la possibilità in un'unica partita di completarlo dovete ragazzi raggiungere un altro posto dove ci sono un bel po' di cannoni ragazzi ed è proprio uno dei nuovi posti di questa season numero 8 sto parlando ovviamente di laguna languida mi ci sto portando ragazzi il più velocemente possibile vi faccio così vedere dovete raggiungere o l'accampamento ma possono anche tranquillamente andare bene i cannoni quelli presenti ovviamente sul veliero di legno una volta raggiunto non sarà assolutamente difficile trapassare lanciandosi il cerchio di fuoco vi ricordo anche ragazzi che non è necessario aspettare una partita o l'altra per poter fare la missione potete tranquillamente se ne avete voglia farli tutti e tre contemporaneamente un altro consiglio che vi do molto velocemente intanto lo state vedendo eccolo qua ragazzi il cerchio di fuoco era quello della missione che chiedeva appunto di fare una kille entro 10 secondi dall'atterraggio di un geyser o la fate ragazzi nella modalità end game ad esempio o comunque cercate di prendere subito laguna che bene o male qualcuno ci trovate sempre qualcuno si è già lanciato il cerchio è qua e quindi anche per questa sfida ve le ho dette tutte e tre io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo tra poco in live ciao 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 ciao